Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè che fa l'amore, hanno giù e giù i coppiè, sempre uguali, non vedo più neanche con gli occhiali, ma, ma, ma sono rimasto lì, lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti e educati, sembravano finti, sembravano proprio interessanti, dipinti. Mi hanno chiesto una stanza e io gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero tre, e ho messo nel letto i lenzoli puliti, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè che fa l'amore, vanno su e giù i coppiè, sempre uguali, non ne vedo più neanche con gli occhiali, ma, ma sono rimasto lì, lì come un cretino, aprendo la porta a quel grigio mattino se ne ero andati, ma hai silenzio perfetto, lasciando solo, solo i due cordi nel letto. Io lo so, lo so che non c'entro, però, però non è giusto, morire da vent'anni e poi, proprio qui. E li hanno incartati i bianchi lenzuoli, e l'ultimo bianchi l'hanno fatto da soli, ne fiori, ne leggendo, solo un fogone, ma là dove vanno staranno belloni. Io, io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè che fa l'amore, io sarò un cretino, ma, chissà perché, non mi va più di dare a nessuno la chiave del numero tre.